E vai! Destra 4! In sinistra 4! Sinistra 4 per sinistra 5! Tieni destra! A 50! Destra 3 apre! Che fate? 150! Sinistra 3 gira! Sinistra 3 gira! Vai! Così! Così! A 50! Tornante destro! Tornante destro! A 50! Destra 5 per destra 5! Per tornante sinistro! Ok! A 100! Tornante destro! Ok! 200! Destra 4! Tieni sinistra per destra 4! Destra 4 per sinistra 5! Apre! Sinistra 5! Apre! A 30! Sinistra 5! Apre! Ok! 200! Destra piena! Allunga! Ok! Attenzione! Alla chicane! Subito per destra 3! Ok! Per destra 3! In sinistra 4 apre! In destra 5! A 50! Sinistra piena! Taglie per destra 5! Ok! A 80! Sinistra 3 che chiude! Eccola! A 30! Sinistra piena! A 100! Piega sinistra! A 80! Destra 3 che chiude! Destra 3 che chiude! A 200! Attenzione! Alla chicane! Per destra 4! Ok! Per destra 4! A 50! Destra 3 che apre! In sinistra 5! Apre! Sinistra 5 apre! A 100! Destra per sinistra 5! Destra per sinistra 5! Per sinistra 4! Lunga! A 100! Destra e sinistra 4! Apre! Destra e sinistra 4! Apre! A 50! Destra 5! Apre! Eccolo! A 30! Destra e sinistra 4! Sinistra 4! In sinistra 4! Apre! Sinistra 4! Apre! A 100! Destra 3! Per sinistra 3! Destra 3! Per sinistra 3! Apre! A 30! Sinistra piena! Per destra 3 che gira! Destra 3 che gira! In sinistra 3! Lunga! Apre! Sinistra 3! Lunga! Apre! A 100! Vai! 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 Destra 5! A 100! Tornante destro! Eccolo! Bellissimo! A 100! Sinistra 5! A 100! Sinistra 5! Destra 3 che chiude! Destra 3 che chiude! In sinistra 4 chiude! Sinistra 4 chiude! A 50! Destra piena! A 100! Sinistra piena lunga e destra piena! Sinistra piena lunga e destra piena! A 50! Destra 4! In destra 3 apre! Destra 4! Destra 3! A 80! Sinistra 4 chiude! Sinistra 4 chiude! Per sinistra 4 apre! Sinistra 4 apre! A 100! Tagliala! Vai! Ok! A 100! A 100! Tieni sinistra per destra piena! Ok! A 150! Attenzione! Alla chicane! Per destra 3! Ok! Per destra 3! A 50! A sinistra taglia per destra 3 lunga! Per sinistra 4 apre! Destra 3 lunga! Sinistra 4 apre! A 80! A 80 sinistra 3! Sinistra 3! A 50! A sinistra taglia per destra 3 apre! Sinistra taglia per destra 3 apre! Per sinistra! Per sinistra taglia per destra 3! Per sinistra 4! Sinistra 4! Guarda che vedi! Per sinistra 3! Sinistra 3 per destra 4! in sinistra piena taglia per destra piena a 100 sinistra per destra 5 apre a 50 sinistra 3 gira sinistra 3 gira lunga ok a 100 destra 3 gira a 200 sinistra piena il ritmo è bellissimo 200 sinistra piena a 100 sinistra 3 sinistra 3 per destra 3 gira lungo sinistra destra 3 gira lunga eccola per sinistra 4 lunga sinistra 4 lunga per sinistra 4 apre ok a 150 sinistra 3 che gira 150 eccola sinistra 3 gira a 50 destra 3 eccola eccola a 50 ancora destra 3 50 sinistra 4 apre sinistra 4 apre a 50 sinistra piena a 50 sinistra 5 lunga per sinistra 5 taglia per destra 4 taglia per destra 4 a 50 sinistra 3 apre sinistra 3 apre a 50 sinistra 4 apre a 200 sinistra 4 apre a 100 sinistra 4 apre bellissimo, bellissima il ritmo è stato bellissimo, giù un paio di errori, ma cazzo peccato giù siamo divertiti veramente quest'anno mi sono divertito come è andata è andata mi sono divertito sicuramente è meglio della prima quindi andiamo su ma un po' più avanti così pigliamo la scheda